Quando sognate di me, mi siete accanto, in qualche modo mi vedete, e io, quando voi mi vedrete veramente, somiglierò all'immagine che voi vi siete fatta di me. Che c'è? Cosa è stato? C'era lì, qualcuno, qualcosa di spaventoso, l'ho visto lì nello specchio, era una faccia, un volto orribile. Dove siete? Non andate via, per carità, ditemi qualcosa, io sto in possesso. Ero io. Vi prego, non fatemi paura. Ero io, quello che avete visto nello specchio. Era la mia faccia, Giulia. E ora potete voltarvi, potete guardarmi. No. Non abbiate paura. Vado via, non mi vedrete mai più. Vi faccio ribrezzo, non posso restare di accanto. Voi siete bella, e io un mostro. Oh no. Siete orribile, spaventosa. Non siete cattivo. Ma perché, perché mi avete mentito così a lungo? Perché sareste fuggito la sera stessa del vostro arrivo qui, e io vi avrei inseguita nella foresta, e vi avrei uccisa. Non posso crederlo. Quando sento la vostra voce, e vedo le vostre mani. Ditemi qualcosa. Datemi la mano. Siete troppo buona. Ma io non voglio la vostra pietà. Potete andare, siete libera. Sulla terrazza dietro la tenda c'è la porta che già conoscete. Andate, ve ne prego. Anche se vi amo, Giulia. Restiamo così. L'incubo passerà. Addio, Giulia. No. Non andate via. Non voltatemi le spalle. Guardatemi.